Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio e Evangelisti. Allora vogliamo proseguire la serie di Giobbe. Ok, questo dovrebbe essere, se non vado errato, il numero 6. Allora, ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio che il Signore non si fida, ok, dei Suoi angeli. Allora, dove è scritto questo? Nel capitolo 4 di Giobbe. Bene, quindi se Dio non si fida dei Suoi angeli, allora che cosa significa che Dio non si fida dei Suoi angeli? Allora, questo è proprio la base dell'Evangelo. Certamente, quando leggiamo questo, è chiaro che sta parlando degli angeli che sono rimasti fedeli al Signore, non degli angeli caduti. Questo, come dire, è un qualcosa di scontato. Quindi, si sta parlando dei angeli fedeli. Perché è scritto? Vabbè, diciamo che, dice, chi è che parla? Dice, è l'uomo che parla. Non è detto che quello che l'uomo dica sia giusto, sia vero. E certo, certo, questo lo abbiamo visto, no? Nei video precedenti, quando abbiamo parlato del fatto che gli uomini hanno detto, no, il fuoco di Dio è caduto. Sì, ho capito, però abbiamo capito che non era il fuoco di Dio, ma era il fuoco di Satana. Di questo ne abbiamo già parlato. Quindi non ci torniamo su. Quindi bisogna capire chi sta parlando. Ovviamente qui sta parlando l'uomo. Però questo qua, anche se in questo momento lo dice l'uomo, allora, è parola di Dio. Tutta è parola di Dio. Però la parola di Dio, che è parola di Dio, ci porta a tante situazioni, ok? Fra cui anche quando l'uomo dice delle cose, ok? E fa delle cose che non sono buone, ok? Benissimo. E questo, essendo parola di Dio, ci porta un insegnamento. Però, stando al contesto biblico, che va dalla Genesi all'Apocalisse, ok, è vero che il Signore non si fida dei Suoi angeli, però va capito nel suo più profondo significato. Che significa questo? Significa che poi, alla fine, la creatura è una cosa. Il creatore è un'altra cosa. Per quanto la creatura sia fedele al creatore, e nel caso degli angeli che sono rimasti fedeli, ok, sono appunto fedeli, ok, però sono sempre creature e in quanto tali sono limitati. ecco perché nessuna creatura può espiare un'altra creatura, ovvero può intercedere. Perché è scritto, prima Timotio 2,5, Ebrei 7,25, c'è un solo mediatore, c'è un solo intercessore, punto, basta. Gli angeli, gli uomini, Maria, chi ti pare, non potrà mai intercedere. Noi possiamo, che ne so, umanamente parlando, si dice sto pregando per te, alcuni dicono sto intercedendo, nel senso che sto pregando per te. Sì, siamo d'accordo, pregare per un fratello è una cosa, ok, come dire, sto pregando per te, sto intercedendo, sì, però l'intercessore per la salvezza, allora pregare per te non ti dà la salvezza. La salvezza la può dare solamente il Signore e l'unico che può intercedere presso il Padre per concretizzare la salvezza è solamente, unicamente, tassativamente Gesù Cristo. Da qui non se ne esce. Ecco perché prima Timoteo 2,5 c'è scritto c'è un solo intercessore. Uno, uno, che per esempio poi il mondo cattolico dice no, vabbè, ci sono anche quelli più piccoli. allora, se ci sono anche quelli più piccoli, perché la scrittura dice uno solo? Vedete come poi il cattolicesimo aggiunge, anche perché il cattolicesimo non fonda la sua fede sulla Bibbia, ma la fonda sulla patristica, sulla tradizione. cioè lui, il cattolicesimo, pone la tradizione al pari e al fianco della Bibbia. Ecco perché è di stampo gnostico. Quindi, quando Dio dice, cioè la scrittura ci dice appunto che il Signore appunto non si fida dei Suoi angeli, significa proprio questo, che essendo creature in quanto tali sono limitati. E non solo, quello che loro fanno, quello che gli angeli fanno, lo fanno perché Dio li ha creati, Dio gli ha dato quella forza. Alla fine tutto lo fa Dio. Cioè, ma se io ti creo, io ti programmo. Allora, se io faccio un robot e lo creo. E questo robot compie un lavoro. Chi l'ha fatto? L'ho fatto io. Certamente gli angeli e gli uomini non siamo robot, abbiamo un'anima. Almeno noi abbiamo un'anima. Loro hanno lo spirito. E questo spirito gode di un libero arbitrio. E così via discorrendo. Poi potremmo anche proseguire il discorso e andare oltre. Ma insomma, quanto detto è più che sufficiente. Allora, la domanda del milione è poi, tra l'altro, quale angelo ti potrà aiutare per quanto riguarda la tua salvezza? Nessuno. Non c'è un solo angelo che ti può aiutare per quanto riguarda la tua salvezza. L'unico Paracletos, intercessore, aiutatore, avvocato che ci aiuta nella salvezza è il vicario di Cristo. E chi è il vicario di Cristo? Lo Spirito Santo. Amen. Solo Lui ci guida in tutta la verità, ci annuncia le cose a venire. lo Spirito Santo, c'è una Trinità, un solo Padre, un solo Figlio, un solo Spirito Santo. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Gli angeli che sono accampati intorno a noi, come scritto, essi non aggiungono nulla alla nostra salvezza. Infatti, essi sono accampati intorno a quelli che credono, a quelli generati dalla volontà di Dio per la fede e per la grazia, ai nati di nuovo. E quindi, gli angeli ci aiutano materialmente. ma il lavoro spirituale lo fa solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Insomma, questa è una grande verità. Poi si entra nel capitolo 5 dove ci sono altre verità. Quale angelo, appunto, nel capitolo 5, dice, non mi ricordo se Dio non si fida dei suoi angeli c'è scritto sia nel capitolo 4 che nel capitolo 5. Comunque, uno dei due. Nel capitolo 5 c'è scritto che Dio manda la pioggia. Mettilo al contrario. Se Dio manda la pioggia, significa anche il contrario, che Dio può chiudere i rubinetti. Dio manda la secchia. Interessante questo. e questo concetto qui lo troviamo nella Torah molto incisivo, molto esplicito, molto radicato, è una grande verità. E questo vale materialmente parlando, ma anche spiritualmente parlando. Quindi, quando noi stiamo bene, spiritualmente parlando, stiamo in pace, abbiamo gioia, abbiamo forza per servire il Signore e tutto quanto, questa è una benedizione che viene dal cielo. La manna, il pane, il pane, che è Gesù, interessante, no? Il pane è Gesù. Oggi, noi ancora abbiamo la manna, è un qualcosa spirituale, nel mangiare la cena del Signore, detta Santa Cena, noi rammemoriamo la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo e il ritorno di Cristo. E se rammemoriamo il ritorno di Cristo, certamente, prima del ritorno di Cristo, sette anni prima del ritorno di Cristo, c'è il rapimento della Chiesa. Gloria a Dio. Inalza gli umili, mette al sicuro gli afflitti, ecco perché dobbiamo sempre fare del bene, tutta la nostra vita, fare sempre del bene. Ci sono delle categorie nella parola di Dio che vengono nominate molto spesso, molto spesso, nello specifico due categorie, ma anche tre. Ma le prime due categorie che vengono nominate in maniera veramente molto incisiva sono gli orfani e le vedove. Chi tocca un orfano insulta un orfano. Mi dice una brutta parola un orfano? Chi tocca una vedova insulta una vedova? Gli dice una brutta parola a una vedova? Povero lui. Povero lui. Povero lui. E poi ci sono anche i poveri, cominciando dai poveri del tuo popolo, cominciando dai poveri della tua famiglia. Si parla tanto di opere, no? Ma voi che parlate tanto di opere e le opere le dobbiamo fare perché lo dice la Bibbia, no? Per esempio, apro una parentesi. Siccome il cattolicesimo non sa più come infangarci, ci dice che noi non facciamo le opere. Perché ci dice che noi non facciamo le opere? Perché noi predichiamo la salvezza in virtù della grazia e della fede e non in virtù delle opere. Ora, predicare la salvezza in virtù della fede e della grazia non significa che noi non facciamo le opere. Significa che noi non siamo salvati per questo. Ma da qui a dire che noi non facciamo le opere o di non fare le opere, insomma, c'è un bel po' di differenza. Allora, che cosa fanno non tutti, alcuni cattolici che hanno Satana nel cuore perché mentono. Chi mente c'è Satana nel cuore. Dice ah, vedete, loro non fanno le opere. Ma non è vero. Noi facciamo, noi, io vi posso dire che qui da queste parti noi abbiamo fatto delle opere che voi cattolici la maggior parte ve le sognate. Ve le sognate. A proposito di opere, quando è l'ultima volta signor cattolico che hai visto a tua madre e hai visto a tua padre e hai visto i tuoi parenti e gli fai del bene, quando è l'ultima volta che l'hai visti? No, perché qui ci sono certi signori che parlano tanto di opere e poi abbandonano i genitori, trascurano i genitori, trattano male i genitori, trattano male i mogli, i mariti, i figli e poi vanno a fare le opere. Voi non sapete neanche cosa sono le opere, quelli che fanno questo lavoro. Poi, per sapere se noi fanno le opere, guarda che certe cose sono anche documentate. Quindi, dire, dire, la salvezza è unicamente e solamente e tassativamente per il sacrificio di Cristo, per la fede e per la grazia, no per le opere, non significa non fare le opere. il fatto è che quelli che lo fanno siete talmente tanto ripieni di Satana che l'unica cosa che vi rimane è mentire. Andiamo avanti. Quindi, innalza gli umili e metta al sicuro gli afflitti, cominciando da quelli di casa tua, perché che tu vai, scusate l'enfasi, che tu vai a dare il panino, e fai bene a farlo, lo facciamo anche noi, che tu vai a dare il panino all'affamato e poi non dai come dire l'amore a casa tua, dentro casa tua, alla tua parentela, ai tuoi parenti, amico mio, tu sei un'ipocrita, tu sei un'ipocrita. Ripeto, quando è l'ultima volta che hai visto a tua madre e a tuo padre? qui c'è gente che abbandona i genitori e se ne va in giro per... vabbè, lasciamo perdere. Allora, andiamo avanti. Ecco, beato l'uomo che Dio castiga, perciò tu non disprezzare la correzione dell'onnipotente. in sei sventure egli ti libererà, sì, in sette il male non ti toccherà. Riderai della distruzione e della carestia e non avrai paura delle belve della terra. Le bestie dei campi saranno in pace con te, scenderai nella tomba in età avanzata. Ecco ciò noi ti diciamo, noi l'abbiamo investigato, egli è così, ascoltalo e riconoscilo. Cosa abbiamo letto? Dice la Bibbia, sì, che significa? E vado a chiudere. Allora, in sei sventure egli ti libererà, sì, in sette il male non ti toccherà. Al di là di questo principio vero, che Dio ci libererà sempre, qui c'è un concetto che abbiamo già trattato nei video precedenti e lo ritrattiamo nuovamente, che il giusto non doveva soffrire, non doveva passare sciagure, non doveva passare problemi, ok? E infatti qui il ragionamento è proprio questo, riderai della distruzione e della carestia e non avrai paura delle belve della terra. Questo è vero, qui veramente possiamo stare ore a parlare, però uno dei concetti, allora sottolineo ulteriormente questa grande verità, un passo a un miliardo di significati, un miliardo, ora ne tratteremo solo uno, il concetto è quello già detto nei video precedenti, il giusto non soffre. In quel periodo storico c'era questa concezione, il giusto era ricco, non soffriva, non gli capitava niente, la sventura non gli piombava addosso e così via discorrendo. Con Giobbe questo mito viene completamente annullato, ok? Le bestie dei campi saranno un pace con te, scenderai nella tomba in età avanzata, no. Così come piove sul giusto e anche così come c'è il sole sul giusto così come sull'ingiusto è anche il contrario. Quindi le cose accadono a tutti. Quindi anche se tu sei un giusto ti puoi ammalare. L'abbiamo visto nel Nuovo Testamento. Sarai perseguitato, sarai messo in carcere o in galera come vuoi, chiamala come vuoi, avrai prove, avrai difficoltà e così via discorrendo. No, assolutamente. Certamente, certamente il Signore sarà sempre con noi, noi gridiamo a Lui ed Egli ci libera ma poi se come dire finito un problema ne arriverà un altro e così via discorrendo. Certamente il Signore è con noi. Certamente noi oggi l'applichiamo in maniera sia non solo fisica che spirituale. Riderai della distruzione e della carestia nel senso che e non avrai paura delle belve della terra. Certamente quando arriva la distruzione e la carestia arriva allora i fratelli che stanno in Ucraina a questo momento stanno passando carestia distruzione ma il Signore ha messo in noi una pace che ci aiuta a superare tutte queste difficoltà ma le cose avvengono infatti per esempio io pongo sempre il famoso esempio di Daniele Daniele il profeta del libro di Daniele che peccato aveva fatto nessuno era un giusto che gli è successo a Daniele è stato deportato per colpa di chi dei suoi padri che avevano peccato i suoi padri hanno peccato e lui ha pagato il prezzo ed è stato deportato ed era un giusto poteva evitarlo il Signore sì ma è andato là poi abbiamo fatto tutta la serie su Daniele forse l'hanno fatto pure un uguoporello capito come facciamo a saperlo vedi la serie su Daniele e quante cose gli sono accadute a Daniele ok ecco verso 27 del capitolo 5 ciò noi ti diciamo noi l'abbiamo investigato egli è così ascoltalo e riconoscilo come dire abbiamo studiato una vita ed è proprio così e non avevano capito niente questi gli amici di Giobbe che lo accusavano e additavano su di lui no e poi abbiamo visto nei capitoli precedenti che insomma faceva una gara a chi era più bravo a lanciare il sasso verso l'altro chi era più giusto chi ne sapeva di più e così via discorrendo poi alla fine abbiamo visto che insomma Giobbe è ognuno di noi e così via discorrendo bene questo super giù è stato il capitolo 5 in poche parole e insomma è un un libro molto interessante molto importante che ci aiuta tanto come dire noi queste cose le sappiamo le conosciamo le dobbiamo vivere con l'aiuto del Signore con la forza dello Spirito Santo con il Signore Gesù che intercede per noi e non tramite uomini che intercederebbero per noi Marie che ce ne sono tanti che intercederebbero per noi quando nel capitolo 5 di Apocalisse non fu trovato nessuno degno di aprire il libro altro che Maria prega per noi Maria in cielo che intercede ma come se non c'era nessuno in cielo degno di aprire il libro quindi vuol dire che Maria non è degna di aprire il libro come vi mettete signori idolatri quella fetta dei cattolici perché abbiamo visto che il cattolicesimo è diviso in 24 7 240 sotto 7 più il mondo ortodosso che sono cattolici e non tutti dicono che Maria è senza peccato intercede lasciamo perdere pure voi siete belli divisi che avete concretizzato una divisione con Lutero e poi andate a dire agli altri divisi insomma da quale pulpito questa è la verità e io ve la dico Dio vi benedica con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci vediamo al prossimo videoprogramma Shalom